Negli ultimi video abbiamo parlato diffusamente della Milano di epoca spagnola e prima di abbandonare il Seicento, per proseguire verso il Settecento Austriaco, vogliamo far visita alla città di Milano. Negli anni venti del Seicento Milano continuava ad essere una delle città più abitate d'Europa, con una stima di circa 130.000-150.000 abitanti. Il numero di abitanti tuttavia crollò con la peste del 1630. È impressionante osservare che solo 64.000 abitanti sopravvissero al Morbo. In realtà già la Milano del XIII secolo contava 150.000 abitanti e in quel periodo era una delle città più grandi d'Europa. Guerre, epidemie, carestie ne decimarono la popolazione, che con gli sforza non superò mai i 100.000 abitanti. Ma il motivo principale per cui lo sviluppo demografico di Milano pare essersi arrestato è che la città, una delle capitali politiche più considerevoli durante il Medioevo centrale, a partire dal XV secolo perse pian piano importanza, fino a diventare città periferica dello schiacchiere politico europeo in epoca spagnola. Una città ottima per il commercio, per l'artigianato, ma la cui vitalità economica era quasi tutta assorbita dalle esigenze di sviluppo, ma anche militari di Madrid. Con la nostra macchina del tempo eccoci al 1650. Essendo Brianzoli entriamo a Milano da Porta Orientale, l'odierna Porta Venezia. Il Grand Tour prevede di attraversare il centro per poi uscire da Porta Ticinese. Avvicinandoci a Milano avremmo visto una chiesa alla nostra destra, all'interno di un cimitero, dai muri piuttosto malconci. Si tratta della chiesa e del cimitero di San Gregorio, ossa comune per gli appestati del 1630, ma anche uno dei cinque cimiteri cittadini che attorniavano la città. Immediatamente dopo ecco il lungo muro del Lazzaretto, privo di accessi in quanto ancora usato come spazio per il ricovero degli appestati. Ricordiamo che la peste era cessata solo vent'anni prima. Ai piedi del muro di Cinta ecco la roggia chiamata Fontanile della Sanità, che in pratica era un piccolo canale coperto da melma e canne palustri. A sinistra invece ecco la chiesa di Santa Francesca Romana, circondata da poche case che costituivano il borgo esterno di Porta Orientale. Nelle grandi città i borghi erano strutture semidifensive poste a protezione delle porte di accesso. Per estensione si dava il nome di borgo anche alle case costruite appena fuori dalle porte. Ecco quindi il borgo nuovo o il borgo spesso, costruiti in epoca tardoromana o longovarda, appena fuori delle porte di accesso delle mura romane. E poi i borghi di Porta Ticinese, Porta Vercellina, di Porta Comasina e così via, che coincidevano con lo spazio tra le porte medievali e quelle spagnole. Con la costruzione dei bastioni spagnoli, ecco che nuovi borghi sorsero oltre le nuove porte, ma si trattava di case poverissime, ad alto rischio di distruzione durante eventuali assedi. Dunque perché costruire case in questi luoghi? Perché non tutte le persone che giungevano le porte della città ne sarebbero state ammesse? Vuoi perché era tardi e le porte venivano chiuse? Vuoi perché avrebbero dovuto pagare un dazio o per altri motivi? Ecco quindi la presenza di osterie, bettole, alberghetti di infima qualità, ma anche piccole attività artigianali di base che erano sgradite in centro città per gli odori o i fumi prodotti. Superati i caselli del dazio avremmo visto una Milano inaspettata. Ampi spazi verdi, quasi tutti coltivati a orti, misti con alberi da frutta e numerose rogge irrigue. Pochissimi gli edifici, soprattutto conventi, costruiti oltre le mura medievali in tempi precedenti all'arrivo degli spagnoli. Al centro della strada scorreva l'antichissimo canale dell'Acqua Lunga, che seguiva ancora il tracciato definito dai Romani 1600 anni prima. Pur non essendo molto ampio, il canale dava piuttosto fastidio, perché divideva le due corsie della strada, rendendo difficile passare da un lato all'altro. Prima di proseguire verso il centro, facciamo un salto sui bastioni, per ammirare il nostro resegone. Beh, essendo bastioni militari costruite per difendersi dagli eserciti invasori, ci immaginiamo di incontrare militari, guardie, armati. Nulla, invece. Ecco nobili che passeggiano a piedi o trottano a cavallo in compagnia di belle dame, e poi panni di ogni colore stesi al sole ad asciugare. Infatti i bastioni erano affittati, e l'affittuario ci poteva fare qualunque attività. Quali attività? Lo scopriamo da alcuni avvisi secenteschi. Sui bastioni c'era gente che pescava nei fossati, che piantava piante da frutto, che usava il bastione come il mondezzaio, o come pascolo per capre, o appunto vi si stendevano panni lavati. È ora di andare in centro. Ecco a sinistra il borghetto, ossia il borgo medievale di Porta Orientale, con la chiesa dei Cappuccini, e poi una miriade di conventi, la basilica paleocristiana di San Diorigi, parzialmente demolita per permettere il tracciato dei bastioni, e poi la piccola chiesa di Santa Lucia, il grande convento di Santa Maria dei Sette Dolori, delle monache agostiniane, e la chiesa di Santa Maria del Rosario, che ospitava ragazze salvate dalla prostituzione. Il convento di Santa Maria dei Sette Dolori era nuovissimo, edificato appena sei anni prima, grazie al budget messo a disposizione dal nobile Giovanni Pietro Carcano. A causa del nome del fondatore, e anche del colore celeste del loro abito, monacale, le suore erano anche dette dame carcanine, o dame turchine. Demolito nel 1775, qui oggi c'è il Museo di Storia Naturale. Poco prima della porta orientale medievale, ecco la piccola cappella di San Rocco, una delle tante, tutte edificate appena oltre le mura medievali, e che avevano un'importantissima funzione sanitaria. San Rocco è il protettore dei viandanti e degli appestati. I viandanti, prima di attraversare le mura medievali, avrebbero dovuto visitare la cappella, ed implorare la grazia di non portare alcun morbo fatale in città. Ora superiamo la porta orientale medievale, detta anche porta Renza, sempre accompagnati dal canale dell'acqua lunga. Di colpo siamo in città, quasi nessun spazio verde, case ammassate le une alle altre, una quantità infinita di chiese, conventi e palazzi nobili, botteghe. Ci colpisce la gente, ovunque, seduta in strada, o che cammina presa dei propri affari, di ogni età, e poi bambini, tanti bambini. Come vai tutta questa gente in giro? Lo scopriremo a breve. Ecco Palazzo Crespi, Palazzo dei Capitani, l'entrata del Seminario Maggiore, Casa Fontana. Non esisteva ancora l'imponente Palazzo Serbelloni. Ed arriviamo in Piazza San Babila, più piccola dell'attuale, con ben tre chiese, San Babila, Santa Marta alle ossa e San Romano. A ogni crocicchio o piazzetta ecco una colonna stazionaria, dove poter celebrare la messa in caso di epidemia. In giro tante carrozze. Nel 1666 c'erano 116 carrozze a 6 cavalli, 437 a 4 cavalli, 103 con 2 cavalli e 1500 cavalli da sella. La carrozza come status symbol dei ricchi o degli arricchiti. Le piazzette sono tutto sommato ben pulite, infatti in ogni piazza stavano seduti alcuni pacchini in attesa di clienti, ed era loro compito di mantenerle decorose. Le strade invece erano pulite dagli abitanti, che vi risiedevano. Era loro obbligo spazzarle il sabato, raccogliendo fango e immondizia in cumuli, che venivano poi portati via da netturbini a soldati dagli stessi abitanti. Secondo il regolamento comunale, domenica le strade milanesi dovevano apparire pulitissime. Pieghiamo verso la corsia dei servi, fino a raggiungere l'abside del Duomo. Ovviamente altre chiese, un'infinità, a volte che si affacciavano sulla strada, a volte raggiungibili solo attraverso un breve e strettissimo viottolo. San Giovanni in Era, Santa Maria in Passarella, la grande chiesa conventuale dei serviti, ancora oggi esistente sebbene ricostruita, San Martino Subdus Duomo, San Giorgio al Pozzo Bianco, San Paolo in Compito, i Santissimi Quattro Coronati, chiamata anche Chiesa delle Quattro Marie, Santa Maria Annunciata al Camposanto, ancora oggi esistente, e Santa Radegonda. Eccoci dietro il Duomo, in costruzione, e nel 1650 praticamente senza guglie. Lo spazio libero è ridotto e le case arrivano fino quasi al muro della Basilica. C'è solo uno spazio aperto, l'antico cimitero di Santa Maria Maggiore, ridotto da alcuni secoli a spazio per i lapicidi, con alcune botteghe a loro uso e consumo. Si tratta della cosiddetta Cassina, il quartiere dei lapicidi della fabbrica del Duomo. Ovunque pezzi scolpiti, polvere, marmo, per raggiungere la piazza del Duomo passiamo davanti alla Ceresco Rado. Ecco a sinistra, semi nascosta da casupole povere, l'odierna piazza Fontana. Senza Fontana, perché siamo nel 1650. Ovunque banchi di verdura, ma raggiungiamo la piazza del Duomo, più piccola dell'attuale, per la presenza di due isolati di edifici, il coperto dei Figini e il Rebecchino. La piazza è gremita di persone. Verso sud, a destra in questa stampa del 1650, il palazzo ducale ha ancora il suo aspetto gotico medievale ed è protetto da un muro con un portone medievale che introduce la corte. La piazza è strapiena di banchi di venditori, anche appoggiati ai muri del palazzo ducale, come si vede in questa splendida stampa. Si vende di tutto, dai tessuti a merci generiche come scarpe, cappelli, cesti, nastri, vetri e poi cibo, pane, vino, acquavite, pollame, carni in genere, formaggi, pesce fresco o salato, frutta secca o fresca, uova, latte, pulcini, addirittura maiali vivi. Alcuni banchi sono fissi, ma la maggior parte sono semplici carretti distribuiti un po' ovunque fino alla piazza dei mercanti. Il chiasso delle voci è assordante e c'è un forte odore di cibo, anche andato male. Lo sappiamo perché diverse grida denunciano gli odori e i rumori di piazza del Duomo. C'è poi chi fa bagarinaggio. Sono poveri diavoli, ma anche i facchini che acquistano alcolici, soprattutto vino, per rivenderlo a pezzi maggiorati, quando la richiesta dei clienti era maggiore. I governanti spagnoli cercavano di eliminare questi venditori, ma quando li cacciavano via dalla piazza dei mercanti, se li ritrovavano nel coperto dei figini. Quando li cacciavano via da lì, se li ritrovavano dall'altra parte della piazza. Ora, percorriamo alcune vie strette che dopo qualche secolo diventeranno l'odierna via Torino. Ecco che incontriamo la contrada dei mercanti d'oro, la contrada dei pennacchiari, la contrada della luna, la corsia della palla, la corsia di San Giorgio Palazzo. Ancora attive le botteghe degli armaioli, con all'esterno l'esposizione di armature e altri oggetti. Ecco vediamo i compratori, spesso grossisti, valutare la merce in strada e poi salire al piano di sopra per finalizzare l'acquisto. Di lì a poco gli armaioli piano piano chiuderanno bottega, sfavoriti dalla politica spagnola. Ogni strada una specializzazione di merci, profumi, spade, oggetti d'oro, argenti, orificerie, gioielli, cappelli e berretti, libri, pellame, falegnamerie. Insomma, percorrendo le strade, a parte la gran quantità di chiese, ci accorgiamo di un'altra particolarità. Ogni edificio popolare è dotato di una infinità di porte, anzi, c'è un accesso ogni 5 metri circa. Entriamo in uno di questi accessi. Eccoci in una bottega, piccolissima, buia, angusta, larga appunto 5 metri e profonda una ventina di metri. Una scala porta ai piani superiori dove c'è l'abitazione quasi sempre un monolocale. Ogni appartamento ha una misura piuttosto standard. Vi è normalmente una sola finestra e un camino. Dei separé dividono il letto da quello che chiameremmo soggiorno. In questo locale una famiglia conserva tutti i suoi averi. Se la famiglia è numerosa, spesso si ha una seconda stanza. Esternamente c'è un cortile comune con un pozzo per l'acqua e se c'è spazio un piccolo orticello. Un contemporaneo scrisse, il pover uomo di così basso grado vive alla giornata et si accomoda tutte le sue masserizie in un sol loco. Con simili appartamenti, la gente se ne stava a casa solo in periodi eccezionali di tempo avverso o per malattia, ma appena poteva uscire di casa e se non era occupata col lavoro, eccola stare nelle strade, lungo i navigli, nelle piazze. Come scrisse Romano Canosa, le abitazioni della maggior parte dei cittadini continuano ad essere tali da non indurre i loro ospiti a trattenersi al loro interno. È interessante notare che la larghezza delle botteghe, appunto 5 o 6 metri, corrisponde alla larghezza delle botteghe secondo i canoni delle città mercantili medievali, ancora rispettate per esempio nel centro di Bolzano. Meditando lo stato di queste abitazioni, che saranno quasi del tutto demolite nei secoli successivi, ecco che arriviamo attraverso il Carrobbio in piazza della Vetra e alla Basilica di San Lorenzo. Del tutto irriconoscibile, perché le case sgangherate appena descritte avvolgevano l'intera basilica come fosse un bozzolo. Sul vetro, la piazza molto più piccola dell'attuale, ospitava la triste sagoma del patibolo comunale. In un angolo, sul lato opposto della chiesa, ecco l'ancora più triste colonna infame, eretta sull'abitazione di Gian Giacomo Mora, additato come un tore di peste a furor di popole. Superata la porta ticinese medievale, diamo un'occhiata al naviglio interno, nel suo tratto tra le strade del Molino delle Armi e della Vittoria. Ecco un gran numero di barconi che ogni ora del giorno navigano lungo il canale trasportando merci dal contado. Sale, ferro, vettovaglie, grano, tessuti, carbone, pietre, legna. I barconi sono manovrati da navaroli et barcaroli, almeno tre, per garantire il movimento corretto attraverso le curve più strette e il passaggio delle conche. L'aspetto dei navigli era meno romantico di quello che potremmo pensare. Le grida del tempo denunciano gli abusi, a volte si gettava dentro imbondizia, terra, fango, ma anche animali morti. L'acqua nel periodo estivo è facilmente imputridiva nelle zone a minor flusso, aggravato anche da siccità o dal prelievo eccessivo per l'irrigazione dei campi attorno alla città. Ma nonostante questi problemi navigli, fiancheggiavano molte vie cittadine e con i loro ponti, parapetti, statue di abbellimento davano un'immagine assolutamente dinamica e interessante alla città. Un unicum in Italia, solo vagamente ricordato dalle poche centinaia di metri di navigli sopravvissuti alle chiusure e che si trovano nella zona più periferica della città moderna. Ed eccoci la Darsena. Non esiste la monumentale porta ticinese che vediamo ora, costruita nell'Ottocento, ma esiste già la Darsena, aperta 47 anni prima della nostra visita, allargando il laghetto di Sant'Eustorgio. È uno dei due porti di Milano, l'altro è la Darsena di San Marco, punto di arrivo del naviglio della Martesana. Osserviamo gli imbocchi. A sinistra l'uscita del canale Ticinello, che scarica le acque verso il Vigentino, e poi l'accesso al naviglio interno, attraverso la conca di Via Renna. Ecco l'immissione del fiume Olona, all'estremità ovest. L'entrata del naviglio grande, che proviene dal Ticino, e poco distante l'uscita del naviglio pavese per Pavia, come recita la pomposa lapide del 1601, oggi conservata a Castello Sforzesco. Anzi, no, controordine. Il naviglio pavese, diversamente da quanto grandiosamente affermato dal conte di Fuentes, avrebbe raggiunto Pavia soltanto nel 1819. Ormai siamo fuori dal comune di Milano. Eccoci nel Burg di Furmagiat, detto anche Borgo delle Lactarelle, ossia il Burg di San Gottardo, specializzato nella produzione casearia. E ovviamente l'immancabile chiesa di San Rocco, in questo caso al Gentilino, con l'immancabile cimitero extramurario. Perché? La vera difesa di Milano erano i bastioni contro gli uomini, ed erano le cappelle dedicate a San Rocco contro i batteri e i virus. Ora siamo in aperta campagna. Osserviamo il panorama verso sud, prati e rigui, marcite, frutteti, paludi, tantissimi canali, mulini a perdita d'occhio, qualche cappella e tante cascine sparse per i campi. Torniamo al 2022 per scoprire che siamo all'altezza dell'auditorium, al termine di corso San Gottardo. Quanto è cambiata Milano!